Sì, però il problema è come le spara, il problema pure di sense raga, sense perché non viene utilizzato perché c'è che le fanno male Cioè è buona l'intenzione ma le fanno male, cioè come lui le lancia le fanno male perché Grimm è buono Solo che per spararle tu davanti a te ti devi piccare e tu piccherai ogni volta senza l'arma e quindi se quello ti spara ovviamente ti ammazza Ah però tu dici per... Tu devi spararla, è per spararla ti devi piccare, è come se tu piccassi sempre con la granata in mano Quelli ti ammazza, cioè soprattutto a livello alto, cioè picchi un secondo, quello tiene il pic, tu muori Al contrario sarebbe stato molto più figo, molto più surreale, siccome Ian tipo comandava un'orda di api Ma sì, ma oppure che adesso lanci un mini drone tipo che tu comandi e dopo tre secondi tipo Flores lo attivi e fa le api Sarebbe stato più utile Ma ho sperato così, non so Tutti col silenziatore siamo Eh, io no Eh, se non dico sfigato di merda Piano 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 Mi sto lasciando sempre con 2 HP Oddio, da quant'è che ha 방법 Da quant'è che ha il grip il grip l'arma di Legion? No, no Piano Sì, hai messo il grip, sì 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 Non ho capito questa cos'è Era già OP con l'arma Allora, ho giàоновçe Spero che non ci sia una Claymore Dove? 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 Ah, tutto Bull Ah, metà vita Finchè mi sono cagato addosso Oh, no top No, no Ok, però questi idrono hanno ovunque C'è nemmeno uno da dietro? Ormai, magari Ah, cioè, quella da Games E termina su dove si Ah, ti guardo se arriva da Games C'ho la cam, c'ho la cam Ah, Games Ok, Games È uscita la porta Alla tutta la camera Oh, scusi Adorno Il preciso è perfetto, bro L'hai scoppiato il cuore Il settore in questo momento è meta Eh, sì Io devo stare attento, ragazzi C'ho 71 di ping Però questi contro è un altro team Perché capisco Tutti idronano Non push, non pushano insieme Minchia, sono bravi Madonna Sennò che non hai l'elite di Bandit Ma perché non butti i soldi negli elite? Che ne pensi del silenziatore? Sulle armi che ci può andare è ottimo Eh, guardi Guarda dietro Yeah Girati 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 Buongiorno Mi nastro ne trovo Sono un ninja, lo so, però No, da shark È vero che avevano l'elite di fuoco Ah, uno è sotto garage Termite Un garage Tutti da garage Non è droppato, non so dove Ah, ok Due garage Sono tutte due garage Se ti rinunci 4 sulle scale ti fai glitch Bravo Buono L'ultima è sul ping È Zofia Non piccarla Stavo dando la rotation delle scale Porta Rotation di elettriche Ma sta ferma Sì, sta dronando No, fake drone Si è mossa Ok, davanti alla porta praticamente Ok È davanti alla porta dei garage Ok, dai, sta dove c'è il ping Ti ando a ping Guarda qua, qua, cross Porta Buono Buono, grazie Let's go Sì, ve lo ho di tryhard Ma l'inizio season Porco 2 Che auto hai? Ma che auto ragazzi? C'ho una bicicletta di mio nonno Sì, stanno strattando No C'è, 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 c'è No Parla, parla Hanno aperto tutto il muro Da toro a game E hanno messo il mira in bagno Ok Quindi hanno tutto quanto toro E qui poi game Let's go Un breach No, sai, come si fa Let's go, let's go, 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 go Ok Ok Shower dead Alibi Yeah, next fight Seconde morto, sì Pongames Malusi Cav, cav, ping, 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 five Cav Passuale scav Let me plant Wait Nice, good job Buono Buono, 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 buono Ragazzi, sledge col silenziatore è tipo Ok, I'm done No, B No, no, no Infatti in alcune partite c'ho 40 di ping In altre 79, cioè Toyserver Che prendono quelli italiani La perturbazione africana Con, ragazzi Non abbiamo l'acqua Quindi i fili non si possono danneggiare Di rame E zinco E quindi è impossibile Che vengano logorati col tempo E con le imperterie della vita Ok, chat Quindi è impossibile I nostri fili sono perfetti Ma se fai 10-0 Con che grado esci? Bannato per cheating Fammi la configurazione elettronica del rame Eh, ovvio Allora, il rame Allora, non c'ho la tavola periodica Qui con me Quindi non Devo un attimo Ovviamente Vedere la tavola Per capire Se mi dici Di Cos'è? Te lo dico No, il rame è C Ovviamente Ma perché io lo so Il rame è C Resonante però Hai trovato la bomba Granata Cambio caricatore Avvio Un drone serbette Un in shower Dead in shower Non è No, raga Mi hai detto Non mi ha mai preso ragazzi Io non ero Io non c'ero Io non ero piccato Io non ero piccato E allora dovrò vincere Sto c***o di round Perché mi deve così Prendere a cavolo Perché i server Fanno schifo Veramente Che gioco fa su Rame è C 29 Ah beh allora Facile 29 1S2 2S4 2S3 3P4 Hai azzeccato Tro la prima Hai azzeccato Scusami cosa 1 1S2 2S2 2P6 Ma che c***o Dici cosa Io non cerco su internet Io sto controlando La tavola periodica Un bel buco gigante In arrivo A test di lettura Cosa Ma non stairs garage C'è un mira sul bull Che devo togliere Assolutamente Che dio Lui mi prende E lui mi prende E lui mi abbraccia NoRi mi prende NoRi mi prende Ma che c***o ho visto, raga? Raga, ma che sto vedendo, chat? Ma? Chat, guardate la schermata Chat! Ma? What the f***? Hello? Ah, vuoi bershare tu? Allora, ti prendo... Ti prendo sledge Il problema... Guardi, ti prego, ti scongiuro, guardi Dov'è? Non l'ho fatto questo È andato sulla sinistra Si fa? Camera di giro In line Morto, smog Oddio, ma sentiamo dalla porta? È ovvio Allora, ce n'era una fuori Non può... Morto? Sto arrivando Con molta calma e sangue fra il petto, sono sdragato Sì, sì Vieni, vieni, veloce, veloce Muoviti Top main Top main Sono in una botta, sono in una botta, sono in una botta L'isignatore online è attivo Bingo, 4 Scegliere Top main Top main Tos 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 Buono Nice Nice Ma non si credeva così? No Cioè sapeva Fosse lì eh Io avrei potuto blicciare Fare rotation strane Confonderla Che rank 6 Siamo in ranked ancora 7 vittorie Una sconfitta Ah quindi lo prende lo stesso Capo What the fuck Ma perché c'era La mia strazza era quella Entrerei con gli MP Tanto loro non se ne accorgevano Ma pensi di classificarti Guarda secondo me Mi classifico champion Rank 35 C'è il filo spinato Sotto la La porta C'è uno scudo davanti alla porta Ok Allora Sul bridge Non sembra esserci Nessuno Prova a romperlo A 2 a 2 Prova a romperlo A 2 a 2 Il 2 a 2 Ok Sì perché può esserci uno In scala 4 per 4 No non c'era nessuno Su scala Cioè C'è i nostri compagni Fallo fallo Zì fai quello che vuoi Ne ho persa una Cominci a bridge a quest Trono Vabbè Vai vai Per altro Trono Buon impiano Ok Ok Non c'è il default Buono Let's go Nice Allora La cosa più importante Come farei a classificarti Scaricando i cheat E quanto li hai pagati I 30 centesimi No sì Sono 29 Per questo ve lo dico Sei in offerta Perché ce la si son nuova Quindi fanno gli scavoni Sì ma adesso Non devi neanche far passare La Non vi fa niente La granata Sotto il buco dei droni Completamente Tu vai Libri Ci c'ha Ma direi che neanche ci provano Ma non ci sarà niente No l'altro qui Ah ok vai 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 fallo 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 Ma Aspetta Sinistra Ma in che senso Ma Ma No 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 Senti vieni qua Da dietro Da dietro Sì Ce l'hai? O hai distrutto tutti i due tappetini Ho una carica Andiamo da dietro Inghietto alle due metri Ah ok Attento Fermo Fermo Vedete ragazzi Che laggano i server Cioè non ha senso Stai morti Non ha senso Guarda Ecco Abbiamo trovato noi Abbiamo trovato noi chat Con gli MP Questo tb è un po' di merda Perché se quelli vengono dal bedroom Ma in K9 Cosa è K9? Ai questi siali Ai stai Siali Siali Filming K9 P espero qui come si è andato in questo rapato? lo stessi lo stessi lo stessi lo stessi canine Buono, buono Let's go Sembrava avessi la in botte comunque Ti giuro C'è da esterno sembrava avessi la in botte La mia mira si è spostata perfettamente quando è uscito il tip C'è un drone Senti se non rinforzi non rinforza nessuno Ah io ho pensato ai gadget Ma che me fanno schifo i brevi E rinforza la botola C'è così Ammortacci loro eh No Scalip Ok Era half hp 1-1-3 1-1-3 1-1-3 Eh... Twitch main Tu basta che stai lì Adesso il mio barbellar Adesso il cam Adesso il cam Inside 1-7 Eh... Ehi... Che falle con la destra Ti volevo dire si può... Si può morire con la destra A Comunque ragazzi vi ricordo che se avete Amazon Prime l'abbonamento è gratis Punto scrumativo vantaggi in chat per sapere tutti i vantaggi degli abbonati Inoltre vi ricordo che ogni mese regalo un pass stagionale di rainbow solo agli abbonati No Inside inside Pillo Ma... 40 HP Morco Cioè erano due veramente fuori che non facevano nulla Impressione maldita Difensori uccidi Vedremo 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 Il doppio non serviva però apprezzo Insomma ne ha fatto il breach di prezzo Ah nessuno sulle scale Nessuno dietro al breach Nessuno blu Io... C'è... Smoke sul ping Uno nel closet Uno in closet Uno in blu In blu Da sopra Uso nuovo caricatore Che palle Si ammessi di merda Eh... 60 HP torna dietro Ragazzi se me la perdiamo Non mi ha piccato Se me la perdiamo certo questo Anzi sai cosa faccio raga? Prendo il pelo più lungo che c'ho nel culo Lo bagno E mi ci... Elettrizzo quello Chris Faccio tipo miccia Da dove? Sta bruciando sotto comunque cucina Etti che notte Che c'è in casa Di che svegli alla nostra Stato Ah... Vero a fare il figo Ok Un'altra cosa con windows Un'altra 15 Està due Sono tutta due Lì Uno è fuori finestra e l'altro l'india in library Non era, non era sulla finestra di... Bravo Non era sulla finestra tua madre lorda che lavora al porto e prende i c***o di pinna gialla Vai fallo 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 Un grande striscia Oh bello Easy, easy Bello Vabbè qui arriva veramente, io penso che tu sia un bitone del lumi dove veramente riciclato Guarda Dash, da il mio posto Uno era piccolo, ok, qui A darmi un ping Morta Ho un pieno, ho un pieno, ho un melusi Granata lanciata Oh, si GG, bravo Siamo 8 a 1 GG La foto La foto, la foto, la foto, la foto Ok Eeeh Piancina Ti giuro, ti stizzo talmente tanto i capezzoli che gli faccio uscire l'olio di palma, Cristo Ciao 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 Grazie a tutti.